Ci leghiamo sempre a questo argomento parlando di vertenze, ce ne sono tante aperte nella nostra provincia che riguardano alcune aziende in crisi, altre che hanno chiuso, i lavoratori che sono in cassa integrazione aspettano di capire quale potrà essere il loro futuro, cosa se ne sa in tal senso, so che lei se ne è occupato in alcuni casi a proposito di alcune vertenze che riguardano la provincia etnea. Noi abbiamo delle vicende che sono paradossali, mi riferisco a imprese che sono società solide come ad esempio la ST e la costola, diciamo, Neumonix, nella quale lo Stato sta intervenendo con forti finanziamenti che si giustificano se e nella misura in cui c'è un'effettiva garanzia rispetto al mantenimento dei livelli occupazionali. La Neumonix, ripeto, che era nata come costola dell'ST è stata ceduta, chi l'ha acquistata è una società americana, il timore fondato dei lavoratori è anche nostro come Partito Democratico e che dietro questa operazione ci sia un rischio per i livelli occupazionali. Abbiamo chiesto, chiediamo e chiederemo in futuro alla Regione e allo Stato, a chi peraltro contribuisce con denaro pubblico all'avvio di determinati progetti industriali, di vigilare perché non ci siano rischi per i lavoratori. In altri ambiti ci sono difficoltà e crisi ben più gravi collegate a imprenditori che hanno abbandonato determinati progetti di impresa. Il caso della SAT, come quello della Cesame, come quello della Marketing Sud, purtroppo i casi sono molteplici. Da questo punto di vista vorremmo una maggiore intraprendenza anche da parte delle istituzioni cittadine, che avevano assunto degli impegni e che non li stanno onorando, che dovrebbero cercare di stimolare chi viene a insediare qui attività produttive perché effettivamente vengano privilegiati questi lavoratori che attendono ormai da anni una loro riallocazione. Crediamo anche che si dovrebbe lavorare su questi lavoratori coinvolgendoli in progetti di formazione e di riqualificazione perché molto spesso una delle cose che registriamo e l'assoluta solitudine nella quale vengono abbandonati questi lavoratori senza un'adeguata assistenza da parte delle istituzioni pubbliche. Parliamo del quartiere Librino. Recentemente c'è stata un'iniziativa da parte del Partito Democratico. Avete incontrato gli abitanti del quartiere e durante questo incontro è emerso, ad esempio, che tra i cittadini di Librino, gli abitanti che vivono in quel quartiere, non emerge un problema, come dire, sicurezza. Sono altri problemi che lamentano gli abitanti di questa zona della città. Sì, abbiamo fatto una serie di incontri. Intanto abbiamo potuto apprezzare la ricchezza anche dal punto di vista proprio dell'associazionismo, una proliferare di iniziative che denotano anche un orgoglio di appartenere a un quartiere che troppo spesso viene citato in negativo e invece ha al suo interno moltissime risorse positive. Il vero tema non è Librino, ma è cosa la città fa per Librino. E allo Stato è molto poco, troppo poco. La società nel suo compresso fa troppo poco. Le uniche istituzioni pubbliche che sono presenti a Librino sono le scuole che fanno un lavoro enorme, meritorio, ma non bastano. A nostro avviso la presenza degli ospedali, una presenza maggiore delle forze dell'ordine, ma non soltanto per una funzione repressiva, ma anche una presenza di controllo del territorio to cure, una presenza che sia una presenza anche dal punto di vista commerciale più sviluppata, un quartiere che riprenda a vivere, che abbia luoghi di incontro, di condivisione, anche una piazza. Perché l'identità di un quartiere nasce anche dai luoghi di incontro, dalle possibilità di confronto, che allo Stato, a Librino, sono troppo ridotte e sicuramente insufficienti rispetto ai bisogni che quel quartiere esprime. Librino, peraltro, per il numero di cittadini che vi abitano, anche dal punto di vista demografico, per la presenza di moltissimi giovani e bambini, rappresenta uno dei perni centrali per la città del domani. Quindi ci siamo permessi, a questo punto di vista, anche di proporre al Sindaco, nell'ambito di questi incontri, di questi presunti stati generali sulla città, un momento che affronti specificamente le questioni di Librino, del suo stato attuale e del suo futuro. Hai detto presunti stati generali, significa che il suo giudizio sugli stati generali non è positivo? No, mi sembra un po' retorico parlare di stati generali. Troppo spesso si utilizza questi stati generali e sono una cosa straordinaria. Probabilmente Catania avrebbe bisogno di un momento di presa di coscienza straordinaria della sua grande difficoltà. La verità è che allo Stato c'è stato un tentativo sempre di bloccare qualunque processo che sia un processo di reale cambiamento. Questa è una delle responsabilità del Partito Democratico d'ora innanzi e di invece far esplodere le contraddizioni che purtroppo caratterizzano la nostra città e tentare di costruire una città diversa nella quale davvero ci sia spazio per tutti e per i cittadini in primo luogo. Berrette, il partito quando affronterà il nodo legato alla nomina di un nuovo capogruppo in Consiglio Comunale? Si aspetterà l'elezione del segretario provinciale? Io credo che essendo ormai gli sgoccioli una vicenda che è quella nostra del congresso che determinerà una leadership provinciale, una leadership che nasce dal consenso espresso e diretto dei nostri iscritti, da quel momento in poi avvieremo una ridefinizione di tutto l'assetto del partito e sicuramente l'individuazione di un capogruppo al Comune è uno dei passaggi fondamentali. Sceglieremo anche un segretario per la città di Catania che fino ad ora non abbiamo avuto se non con una responsabilità limitata che ha avuto Giovanni Giacalone per alcuni mesi. Anche a Catania c'è bisogno di un segretario che svolga pieno il suo ruolo. Berrette, da un po' di tempo, da quando il parlamentare si divide tra Roma e Catania, Catania svolge l'attività di parlamentare, ma anche quello di docente e si occupa ogni tanto anche dei figli perché so che li accompagna a scuola. Ci incontriamo, abbiamo questa fortuna di accompagnare i figli a scuola. Ma le chiedo, trova del tempo per rilassarsi un attimo, per farsi una vacanza, per andare al cinema, per leggere un libro? Leggo molto, il cinema più arrò. L'ultimo libro che ha letto qual è stato? L'arte di Anna Carsi, diciamo, di Alaimo sulla Sicilia, peraltro è un libro molto bello con tante tappe nella nostra terra. E la descrizione un po' di questa Sicilia un po' lenta, insomma, dai ritmi un po'... Sì, un po' lenta, con tanti pregi, con alcuni difetti, con però tante bellezze che meritano di essere valorizzate e allo Stato non lo sono. Al cinema c'è stato con i figli o per vedere, insomma, un film per adulti? Tendenzialmente vado con i figli, quindi specializzato in film per bambini, diciamo. Bambini e meno bambini perché poi le mie figlie hanno questa caratteristica, gli piacciono molti i film anche per adulti. Ho visto Happy Family, l'ultimo film che ho visto è stato questo, però tendenzialmente vedo film per bambini. L'ultima vacanza, l'ultimo weekend, quando è stato invece? A Roma, in occasione di Pasqua, con le figlie però, con moglie e figlie. Una volta tanto ho visto Roma sotto un altro punto di vista. Esatto, più di divertimento che di lavoro. Normalmente è il luogo del lavoro, invece in questo caso è stato il luogo di un piacevole weekend con amici e famiglia. Durante la settimana e poi chiudiamo, Roma la trova più caotica o meno caotica di Catania? Certamente Catania da questo punto di vista ha alcuni record. Il tema di mobilità, la situazione catanese è davvero una situazione molto molto difficile. Anche a confronto con metropoli come Roma o come altre grandi città, credo che la situazione di Catania sia una situazione speciale nelle giornate di pioggia, molto molto complicata e non mi sembra che anche da questo punto di vista l'amministrazione comunale abbia utilizzato gli strumenti di cui dispone per tentare di avviare a soluzione i problemi. A proposito di viabilità, lei ha seguito sicuramente questo dibattito legato all'abbattimento del Tonno Gioieni, del Cavalcadier e del Ponte Gioieni. Lei è tra i favorevoli o i contrari? Io sono tra i favorevoli all'abbattimento. Penso che dal punto di vista sia anche della sicurezza, quel cavalcavia sia una serie ipoteca dal punto di vista della prospettiva e quindi credo che prima lo si farà e meglio è per la nostra città. Grazie di essere stato con noi, grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti.